Dopo l'infausta trasferta di Padova, Moriero fa autocritiche e prova ad analizzare i punti di debolezza della compagine Maremmane in vista dell'incontro casalingo contro i Veneti. Noi siamo andati lì a fare risultato, abbiamo subito tre gol sui nostri errori difensivi, più che difensivi secondo me individuali, però fa parte del gioco. Dagli errori bisogna sempre imparare e migliorare. Adesso affrontiamo una squadra in questo momento concorrente alla salvezza, dobbiamo fare la nostra con il carattere, con l'aggressività e soprattutto imponendo il nostro gioco. Con una lista degli indisponibili che si allunga ancora di più a dismisura a causa delle forfetti turati, Soncini tornerà sulla tre quarti di campo alle spalle di Guidone. Mi auguro comunque che si sblocchi al più presto questo ragazzo, comunque ci mette tanta volontà, arriva sempre ad avere due o tre occasioni durante la gara, un po' di fortuna perché appena si sblocca vedrai che non si fermerà più. Tra squalificati e infortunati siamo in difficoltà, però non abbiamo tempo di pensare a queste cose, scenderanno in campo altri giocatori e io voglio il 100% anche da questi. Per il tecnico Biancorosso l'obiettivo è vincere contro il Portogruaro, andando in campo senza però sbilanciarsi, con l'arduo compito riservato a Vitiello di dover coprire di più gli spazi sulla linea mediana. Questo è un campionato molto lungo e difficile, per cui bisogna stare bene, avere comunque tranquillità, equilibrio, sì è vero bisogna vincere le partite ma non bisogna neanche perderle. Ti ripeto, noi da parte nostra cercheremo di imporre il nostro gioco e cercare di portare a casa i tiri di tre punti, per cui vedremo quello che succede. L'importante è che scenda un grosseto con l'approccio giusto, una squadra concentrata, ma ne sono convinto perché li vedo i ragazzi che sono rammaricati per la sconfitta, vogliono fare bella figura vicino ai propri tifosi e hanno voglia di riscatto. Grazie a tutti.